Così tesera, il tuo papuccio sarà vero che è tu. Madonna che testana che c'ha. Eh no, allora voi te la facciamo una. Sì, così gli viene male. Ciao Alessandro. Saluto a tuo papà. Allora, testa in basso. Bene. Già? Bene. E stavo volta? Vabbè, ma ancora non è detto che può fare. Dosso a destra. E' uccidista a mamma da si girare all'occhio, mi girò magari a testa. Vero, vè. Potrei mi preoccupare veramente. Non è che Emanuele, no, vero? Perché ormai abbiamo ricamato Emanuela. Ormai ti traccavi pronta per me. Anche voi ti hai ricamato, ma che siete brave. Sì, facciamo un tuo progetto. Ah sì? Sì. Aspetta un mattino che devo cercare le serelle delle fine. Non lo vorrei che è stato. Allora, guarda. si vede tu, e mangia, mangia, mangia non mi sono svegli quando ho venduto questa settimana? io vado facendo questo batterio non crescere un bello quella è la vescica? no e questo è il cuore? quel bucolaggio? quello più alto è lo stomaco questo è dilato anche una bella pancia io ho una mamma per avere la tridimensionale la fai tu? io ce l'ho la prima di 30 settimane la prossima volta la porto tu ricorda per Natale che c'è il tuo marito scusami prima di Natale ci facciamo una visita? certo, tra un mese non c'è lui almeno sa di dirlo anche se io sono curiosa ma viene anche tutto questo è il lamero è una cosa che non mi fa capo ecco risponde va tutta per 28 una settimana prima dopo? passa avanti 28 una settimana prima si sogni 27 sì una settimana prima alla nascita guarda che bellissimo sta dormendo ora ehm siamo ultimi ora un po' un po' un po' un po' piedino chiamiamolo piedino ehm un po' un po' un po' un po' un po' l'ho un po' un po' e anche 5.3 di femore, quindi 7.5, 35, 36 centimetri bella offra qua ce la vediamo come di fronte qua invece di dietro, anche se si vede l'orecchio bello sporgente ecco un po' l'idrofino ecco un altro guarda, poi vediamo da sotto le narici come se lo guardassimo da qua c'è la placenta, ad esempio vedi la 3d se c'è la placenta davanti così la riusciamo a vedere, però siccome è superficiale, copre come se è un muro ad esempio in questa posizione non la riusciamo a vedere con la 3d perché ti vuoi far da muro guarda la magia 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 si mi dita mi dita vuoi vedere si no, non mi è possibile mi dita Sì, ma chi sarebbe praticamente voi? Sì, anche perché con l'assistenza io sono dovuta andare a Messina, a Santa Teresa Riva, perché nessuno mi ha saputo dare indicazioni. Sì, con l'interno, con le lame. Sì, 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 già abbiamo fatto, quasi due anni. Sì, sì, martedì meglio, perché lunedì sono a scuola. Sì, sì, così non ho i bambini e stiamo a posto. No, nove e mezza, perché è il tempo che le accompagna. Sì, 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 ho i bambini, sì. Ok, tutto bene. Grazie. Facciamo la stima, la speso. Sì, un po' di speso, 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 un po' di speso. Grazie.